La gara durerà oltre 4 ore e mezza e vivrà tre distinti episodi. All'inizio vanno in testa Alonji, Nava e Baldastarri, che procedono insieme per 5 km. Poi Baldastarri si stacca e fila tutto solo in testa, ma 50 km sono lunghi. Il romano si ritirerà prima del termine. Seconda fase, sono al comando i favoriti Dordoni, Bomba e Cascino. La classica e implacabile andatura dell'Olimpionico non permetterà agli avversari di restare a lungo in sua compagnia. Staccati da Dordoni, Bomba e Cascino si classificheranno rispettivamente terzo e quinto. Terza fase, Marchisella, giovane pugnese, osa battersi a fianco a fianco col grande Dordoni, forse anche perché è incoraggiato dal suo sorriso. Si classificherà secondo. Soltanto al 42esimo chilometro le gambe da fenicottero di Dordoni battono in solitudine all'asfalto. Grazie al cielo, anche questa volta la vittoria è del marciatore olimpionico. E con un tempo eccellente, 4 ore 34 minuti e 15 secondi. Grazie a tutti.